State per presentare il PGT alla popolazione? Sì, dopo un percorso lungo e anche un po' accidentato, per ovvi motivi quando questi progetti passano a cavallo di due amministrazioni, riusciremo appunto il 29 agosto alle ore 20 nella sala multimediale della scuola Mette di Gorno, al polo scolastico diciamo così, e presenteremo, faremo l'assemblea pubblica di presentazione e poi nel giro di qualche settimana faremo poi anche il consiglio per l'adozione e tutto ciò che serve per poter arrivare alla definizione finale. Naturalmente è stato un lavoro piuttosto impegnativo, ci si è impegnati un po' tutti, soprattutto la Giunta e anche i consiglieri, hanno dato un contributo non indifferente, vedremo quali sono i risultati e avrete modo di commentare. Ripeto ancora una volta, il 29 agosto alle ore 20 alla sala multimediale del polo scolastico di Gorno. È importante esserci perché si sente in diretta ciò che c'è realmente sulla carta, dopodiché avrete modo di trarre le conclusioni e i giudizi relativi.